Andrà a votare alla referendum? Come voterà e perché rispetto ai quesiti più importanti? Non andrò a votare quindi non posso spiegare come voterò. Voterò sì per tutti quei referendum che affrontano dei problemi che non sono stati affrontati dal Parlamento. Qual è il quesito referendario più pericoloso per l'ordine giudiziario? A breve è quello sulla custodia cautelare, a lungo termine quello sulla eliminazione dei passaggi tra funzioni requerenti e funzioni giudicanti. Dipende da che cosa intende per pericolo e pericolo per chi. Io ritengo che un quesito molto importante sia quello relativo alla formazione del Consiglio Superiore della Magistratura e un altro è quello relativo alla valutazione dei magistrati. Cosa ne pensa della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante? Ritengo che sia un primo passo per una migliore definizione di quello che è diventato un potere separato dello Stato, cioè il potere della magistratura requirente e inquirente. La garanzia maggiore per l'imputato è che il pubblico ministero sia quanto più possibile simile al giudice, cioè che ragioni e agisca come un giudice. In questo senso il Consiglio d'Europa aveva indicato il modello italiano, che poi è anche quello francese, come quello che tutti gli stati del Consiglio d'Europa dovrebbero seguire. Nel nostro Paese c'è un abuso della carcerazione preventiva? È una leggenda che l'Italia abbia molta custodia cautelare. All'estero, dopo la sentenza di primo grado, i condannati sono considerati definitivi. In Italia sono considerati in custodia cautelare anche dopo la sentenza di primo grado, in appello in Cassazione. Certamente, è addirittura dichiarato dalla stessa ordine giudiziario, perché ci sono ogni anno circa mille casi per i quali viene deciso un risarcimento dei danni a coloro che sono stati oggetto di carcerazione preventiva ingiusta. È giusto che la politica riformi la giustizia o sarebbe meglio che la giustizia si riformasse da sola? È proprio il Parlamento che deve riformare la giustizia, perché la giustizia applica delle leggi e chi fa le leggi è il Parlamento. Il problema è che noi abbiamo una classe dirigente che tiene comportamenti che non sono accettati in altri Paesi a cui crediamo di assomigliare. È stata una buona idea indire lo sciopero dei magistrati il lunedì scorso? Pessima, e non solo pessima, ma anche un'idea suicida. È stata una buona idea far presente in qualche modo che la riforma fosse profondamente sbagliata. L'Italia è un Paese infestato dalla corruzione. No, la corruzione percepita è molto alta, ma la corruzione misurata è invece a livelli più o meno simili dei principali Paesi europei. Il costo delle opere pubbliche in Italia è di media il doppio di quello degli altri Paesi europei. Allora vuol dire che evidentemente c'è qualcosa che non va.